Fervono i lavori sulla strada statale 51 di Alemagna, lavori in vista delle Olimpiadi 2026, ma lavori oggettivamente necessari per adeguare ai flussi turistici una strada che spesso collassa producendo code interminabili. A Tai, in comune di Pieve di Cadore, i cantieri sono ben visibili e a lavori ultimati porteranno il traffico di passaggio finalmente fuori dal centro abitato. La variante procede a ritmi molto serrati, io davvero sono incredula dallo staccanovismo degli operai e delle imprese coinvolte e in primis faccio i complimenti ad Anas che sta chiaramente architettando il tutto ed è sempre sul territorio, loro lavorano anche di notte, lavorano a qualsiasi temperatura e devo dire che noi a Tai siamo anche abbastanza fortunati perché per il momento il cantiere è spostato dall'asse dell'Alemagna e quindi non coinvolge appunto la statale e non crea quindi ingorghi e difficoltà che per esempio si possono presentare a valle o in altri punti. Spesso si sono viste opere programmate per un evento essere completate non solo non in tempo ma addirittura anni dopo. Nel caso delle varianti sulla 51, come anche il prefetto di Belluno, Maiano Savastano dopo i controlli effettuati aveva avuto modo di assicurare, il crono programma è perfettamente rispettato. Da crono programma ufficiale la variante di Tai dovrebbe chiudersi tre giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi per cui è un termine chiaramente molto risicato. Vero anche che loro però stanno facendo di tutto per chiudere in tempi quanto più celeri e c'è anche un premio di accelerazione nel contratto che chiaramente aiuta da questo punto di vista.